Ciao a tutti, oggi come avete visto perché ci sta questa figurina di Matteo Poletano sulla il super draft. Allora questa figurina l'abbiamo messa perché praticamente è successa una cosa bellissima che Poletano mi ha mandato un video dove mi saluto, infatti è un giocatore che stimo tantissimo che questa cosa è successa pure anche grazie a Tania, che saluto. Tra poco vi andremo a far vedere il video. Ciao Cristian, mi hanno detto che sei un mio grandissimo fan quindi innanzitutto ti ringrazio e seconda cosa ti mando un grandissimo abbraccio e spero di incontrarti presto. Ciao ciao. Questo è il video, spero che a voi mi è piaciuto, a me ovviamente mi è piaciuto e sono felicissimo grazie 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 Poletano. Ciao a tutti.